Musica Minalce ultra rafforzata la scorta dell'Aurentis. A Napoli cresce l'attesa per la festa Scudetto, ma aumenta anche la tensione disposta alla scorta per il presidente Aurelio dell'Aurentis dopo i contrasti con i gruppi Ultras. Intanto oggi tornano bagniere e striscioni al Maradona. Mergellina, il killer, fu aiutato da due ragazze. Nuovi particolari nelle indagini sul delitto degli chalet. Valda, nella fuga, venne aiutato dalla sorella e dalla cugina che lo prelevarono con una Fiat 500. A una delle due l'indagato avrebbe consegnato un oggetto, forse era la pistola. Salerno può decollare i primi voli da luglio 2024. L'aeroporto Costa d'Amalfi sarà pienamente operativo tra un anno. De Luca annuncia un investimento complessivo da 500 milioni di euro e per l'assessore regionale Marchiello lo scalo sarà cruciale per l'economia campana. Ruba piastrella dell'Ottocento alla reggia di Caserta. Nei guai un 42enne di Castelvolturno incastrato dai video delle telecamere di sicurezza. Il pezzo recuperato sarà nuovamente installato nella sala del Palazzo Reale Vambitelliano. Intanto a Pestum nuove scoperte. Flash mob legambiente salvate i pini storici. Ad Avellino sono 40 gli alberi dell'istituto agrario a rischio. Sono stati colpiti dalla cocciniglia e ora potrebbero essere abbattuti. L'appello di legambiente alle istituzioni cittadine. Intervenite prima che sia troppo tardi. Industrie Benevento sistema per la sicurezza. È il progetto Paride che ha interessato la zona Asi di Ponte Valentino per il monitoraggio ambientale. Il bilancio dei controlli sarà presentato lunedì alla presenza del vice capo della polizia e di industriali magistrati e politici. Buongiorno e ben ritrovati con il nostro TG. In primo piano l'attesa per la festa dello Scudetto a Napoli dove però è aumentata anche la tensione. È rafforzata la scorta per il presidente Aurelio De Laurentiis dopo i contrasti con i gruppi ultra. Intanto oggi tornano bandiere e striscioni al Maradona. Nappoli si prepara a vivere il suo sogno ma l'avvicinarsi del terzo Scudetto non ha cancellato tensioni e veleni. Le scorie dei contrasti tra il presidente De Laurentiis e alcuni gruppi Ultras hanno spinto le autorità di pubblica sicurezza a mettere sotto scorta il numero uno del club. A scopo precauzionale è stato applicato un dispositivo di tutela composto da due agenti che seguiranno costantemente l'imprenditore. Il tutto mentre proseguono i tentativi di disgelo tra club ed Ultras come richiesto anche dal Viminale. L'idea di riunire le parti attorno ad un tavolo è stata accantonata ma la mediazione va avanti. Non a casa oggi in occasione di Napoli-Verona al Maradona torneranno anche striscioni e bandiere. Di pari pasto proseguono i preparativi per la grande festa che si svolgerà il 4 giugno e sarà dislocata su dieci piazze. In queste ore tra l'altro si sta valutando anche di organizzare feste in alcuni comuni della provincia tra cui potrebbero figurare Castellammare di Stabbia, Nola, Pozzuoli e Giuliano. Si vuole evidentemente diluire in un ambito più vasto l'affollamento, la calca dei difosi. Se questo è, lo valuteremo insomma, ma è nella responsabilità sicuramente delle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Immagino che verrà da loro, insomma, ma torna a dire, lei mi fa delle domande su questioni che io apprendo adesso. Il comune di Napoli intanto ha lanciato l'iniziativa Mi Illumino di Azzurro. Ieri sera il colonnato di piazza Plebiscito è stato illuminato da Azzurro in modo da sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti. Ed ora parliamo dell'omicidio di Mergellina. Il killer fu aiutato da due ragazze. Emergono nuovi particolari nell'inchiesta sul delitto degli chalet a Napoli. A una delle due l'indagato avrebbe consegnato la pistola. Vediamo. Nuovi dettagli sul caso dell'omicidio di Francesco Pio Maimone emergono dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza nei dintorni dello chalet dove il giovane ha perso la vita la notte del 20 marzo scorso a Mergellina. Sarebbero state due ragazze ad aiutare Valda dopo gli spari. Nelle riprese dell'occhio elettronico si vede esplodere la lite nata per una macchia su un paio di scarpe griffate. Spalleggiato da un manipolo di amici di bar ritenuti vicini al clan Aprea Francesco Pio Valda litiga con alcuni soggetti legati al clan del rione Traiano. Prima un calcio da parte di un cinquantenne con precedenti poi qualche passo indietro lontano dalla bolgia e gli spari. Sono tre o quattro i colpi esplosi da Valda, uno dei quali avrebbe raggiunto Maimone, suo omonimo e quasi ecoetaneo, lì allo chalet per rilassarsi con qualche amico dopo una giornata di lavoro in pizzeria. A questo punto, mentre qualcuno tenta di chiamare un'ambulanza per l'adolescente ferito e riverso al suolo, le immagini delle telecamere riprendono la fuga di Valda, il passo spedito ma l'andatura è strana, rigida, come se il giovane stesse impugnando un'arma. Entra in auto una Fiat 500, all'interno due ragazze. Secondo la procura, le due giovani donne lo avrebbero coperto accompagnandolo all'interno di un covo dove avrebbe tentato di cancellare ogni traccia dei fatti di Mergellina. Il fermo di Valda però non ha messo un punto al conflitto tra i due gruppi che si sono invitati allo scontro. Il lavoro degli agenti della polizia continua, la caccia ai complici di Valda è aperta. ad aver pagato con la vita il grave insulto di una scarpa sporcata, l'innocente Francesco Pio. Continua la lotta all'inquinamento ambientale da parte dei carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania che questa volta hanno controllato insieme al personale della polizia municipale e ai militari dell'esercito italiano un rimessaggio per imbarcazioni in via San Francesco a Patria. Durante l'operazione nell'area da 5.000 m2 è stato accertato che c'erano relitti di barche ammassati senza le previsioni di esposizioni ambientali e senza la documentazione relativa alla prevenzione degli incendi. L'area con all'interno 141 barche e due acquascooter è stata sequestrata per il titolare dell'azienda una denuncia e sanzioni amministrative. Un dettagliato rapporto sull'operazione dei carabinieri è stato poi inviato all'autorità giudiziaria. L'aeroporto Salerno-Costa Damalfi sarà pienamente operativo dal 2024 lo ha annunciato il presidente De Luca che parla di svolta per il territorio con un investimento complessivo da 500 milioni di euro. Nell'estate del 2024 partiranno i primi voli dall'aeroporto Costa Damalfi di Salerno dopo un primo anno di rodaggio si continuerà a crescere per raggiungere nel 2025 il milione di passeggeri. Il timing dei lavori è pienamente rispettato come ha chiarito il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nell'incontro organizzato alla Camera di Commercio di Salerno da Regione e GESAC Società di Gestione dei Due Scali Capodichino e Salerno. L'investimento sull'aeroporto in senso stretto è di quasi 300 milioni di euro complessivamente investiamo mezzo miliardo perché prolunghiamo la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto credo che sarà veramente una infrastruttura decisiva per il decollo del territorio salernitano credo anche un aiuto importante per l'aeroporto di Capodichino che è arrivato al limite puntiamo al turismo ovviamente ma puntiamo anche molto alle attività commerciali. La piena operatività dell'aeroporto di Salerno rappresenta una svolta importante per tutta la Campania chiarisce l'assessore regionale Marchiello. Secondo me è uno dei punti nodali e cruciali del nostro futuro e dell'economia della regione. Noi abbiamo un solo aeroporto Capodichino che serve un po' tutta quest'area sud. Noi abbiamo possibilità di portare una grande fascia di turismo sulla zona bellissima nostra cilentana e credo anche poi un'attività di cargo perché noi abbiamo bisogno avendo i porti di Napoli e Salerno di avere collegamenti anche aerei. Ha prelevato una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca della reggia di Caserta ma è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del monumento e denunciato dai carabinieri per il reato di furto di beni culturali. Il protagonista è un 42enne di Castelvolturno. La piastrella è stata poi riconsegnata alla direttrice della reggia Tiziana Maffei. Il pezzo unico potrà ora essere ricollocato nella meravigliosa sala ottocentesca del Palazzo Reale Vambitelliano. Il furto, come emerso dal video delle telecamere della reggia esaminati dai carabinieri della compagnia di Caserta, era avvenuto il 16 marzo scorso. Turismo dalla pianificazione alla realizzazione. Il convegno di Vivo Napoli per promuovere strategie di sviluppo economico della Campania. Il settore del turismo deve essere un'opportunità di crescita economica per tutti i territori per cui serve un confronto tra istituzioni per mettere in piedi strategie giuste e mirate. Se ne è discusso con i maggiori esperti del settore un convegno confronto organizzato dall'associazione Io Vivo Napoli alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci e del professore ordinario di marketing della Campania Luigi Vambitelli Raffaele Cercola. Se ben guidato, ed ecco il motivo dell'incontro, con una pianificazione a più livelli tutto sia a livello italiano sia a livello regionale si creda sempre di più in questo settore e questo settore possa ambire a diventare quello che è uno degli assi importanti dell'economia. Non dimentichiamo che è un settore importante per il turismo, importante per l'occupazione, importante per l'economia, per le imprese. Quindi a volte viene preso sotto gamba ma invece è un settore importantissimo per tutto il paese, per tutte le forme. Ma se da un lato Napoli brilla per la crescita turistica, dall'altra fa acqua da tutte le parti per i trasporti. È diventata virale la foto di un turista che ripara il figlio con l'ombrello aperto nel treno della Circon Vesuviana per proteggerlo dalla pioggia che penetra dal tetto del vagone. Ad Avellino i 40 pini dell'Istituto Agrario sono a rischio, sono stati colpiti dalla cocciniglia e ora rischiano di essere abbattuti l'appello di lega ambiente alle istituzioni. Dice intervenire prima che sia troppo tardi. È passato un anno dalla segnalazione di lega ambiente sulla presenza della cocciniglia sui pini storici dell'Istituto Agrario De Santis di Viale Italia. Da allora le istituzioni non si sono mosse. La provincia di Avellino è rimasta intrappolata nelle pastoie burocratiche e allora gli attivisti hanno rinnovato il loro appello con un flash mob davanti l'Istituto. Un messaggio eloquente nel loro striscione per testimoniare quanto l'immobilismo dimostrato sulla sorte di 38 esemplari malati faccia male. Rischiano seriamente di scomparire e ora di intervenire. La provincia ci ha accolto per diversi incontri e abbiamo deciso con loro quali erano le migliori cure da adottare che appunto sono le stesse che ha adottato il comune di Avellino a Piazza Kennedy. È un anno che stiamo chiedendo l'inizio delle cure e di fatto la provincia non ne ha proceduto con gli adempimenti previsti al suo detta per motivi di autorizzazione da parte di altri enti. Quindi noi chiediamo a tutti gli enti preposti di rilasciare le autorizzazioni necessarie perché altrimenti rischiamo di perdere 38 pini, di questi quasi 10 sono già morti. Quindi bisogna intervenire quanto prima. Ancora una volta finisce nel mirino di lega ambiente la poca manutenzione del verde pubblico in città. L'appello è lavorare in sinergia per prevenire dolorosi abbattimenti quando ormai è troppo tardi. Il verde non va curato quando è malato, il verde va curato direttamente in modo capillare e continuo. Questo è il nostro appello. Noi siamo a disposizione delle istituzioni, si è visto come è avvenuto da Tripalde anche altre volte con il Comune di Avellino e con altri enti. Noi ci mettiamo a disposizione per consulenze, per discutere insieme di quelle che sono le migliori azioni da intraprendere. Però bisogna anche intervenire a un certo punto. Niente lista a PD a Pomigliano d'Arco. Lo hanno annunciato il commissario Misiani e il segretario metropolitano del partito Giuseppe Annunziata. Non esistono le condizioni, scrivono in una nota per un progetto serio di prospettiva del centro-sinistra in grado di dare speranza e un futuro a Pomigliano d'Arco. E per questo abbiamo deciso di non presentare la lista del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali. Il ritiro del Movimento 5 Stelle e il sostanziale dissolvimento del cantiere del centro-sinistra ci inducono a fare tabula rasa e ripartire da zero. Anche i 5 Stelle hanno annunciato che non si presenteranno con una lista, con il loro simbolo. Nuove sensazionali scoperte sono state effettuate nel parco archeologico di Pestum. Dagli scavi sono riemerse teste di toro, un altare e centinaia di ex voto. Il parco archeologico di Pestum continua a riservare straordinarie scoperte. Gli scavi avviati per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019. Stanno dando esiti sensazionali e che, secondo la direttrice Tiziana D'Angelo, potrebbero addirittura cambiare la storia dell'antica Poseidoni. La costruzione del tempio risale all'inizio del V secolo avanti Cristo, ma la sua storia copre pressoché mezzo millennio e raggiunge la fine del I secolo avanti Cristo, quando la città di Pestum era già in mano ai Romani. A raccontarci questa lunga storia sono soprattutto i reperti che riemergono quotidianamente dalla terra. Tra questi numerosi frammenti architettonici dalla policromia vivace, ma anche centinaia di statuette di terracotta, raffiguranti animali e svariate divinità. Tra queste c'è probabilmente anche la divinità alla quale questo tempio fu dedicato. Il tempietto di Pestum, come anticipato dall'Agenzia Anza, ha restituito sette teste di toro, l'altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici, e centinaia di ex voto, spiccano inoltre le immagini di un eros a cavallo del delfino, che potrebbe rimandare al mitico Poseidone, dio protettore della colonia greca. Ritrovamenti che, secondo il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, confermano lo straordinario valore di questo sito e le sue grandi potenzialità sulle quali stiamo lavorando. La sicurezza degli agglomerati industriali e la sostenibilità attraverso il monitoraggio ambientale delle zone industriali. C'è questo al centro del progetto Paride, che ha interessato la zona Asi di Benevento, il cui bilancio sarà presentato lunedì. Nel Sannio lunedì mattina si presenta il progetto Paride, un sistema per la sicurezza nelle aree industriali, ideato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Benevento, presieduto da Luigi Barone, al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale, di uso illecito del suolo. L'evento conclusivo con la presenza del prefetto Gabbacurta, vice capo della polizia. È un progetto importante, grazie al PON Legalità, che consente all'agglomerato industriale di essere in sicurezza, di avere una sicurezza, non solo legato alla vita di sorveglianza, ma anche legato ai temi ambientali. La necessità di rendere sicuri gli agglomerati industriali, innovazione e sostenibilità per il monitoraggio dell'ecosistema Asi, il mondo produttivo e la sicurezza. Elementi questi che diventano anche ulteriori attrattori per gli industriali che vogliono insediare le proprie aziende nel Sannio. Le aziende, quando si insediano, ci chiedono innanzitutto i livelli di sicurezza, poi ci chiedono i livelli di sicurezza ambientale, a livello fognario e depurativo. Il furgone ha una serie di attrezzature innovative, legate alla sicurezza e alla sicurezza ambientale, per il telerilevamento, quindi darà una mano alla sicurezza ambientale dell'agglomerato. Per l'occasione interverrà il prefetto Stefano Gambacurta, vice capo della Polizia di Stato, il sindaco Clemente Mastella, il presidente degli industriali Sannitio, Reste Vigorito, magistrate e autorità. Al pronto soccorso oculistico dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, oculista e infermiere brutalmente aggrediti da un paziente che si era rivolto a loro per una visita specialistica e non voleva aspettare. A segnalare l'aggressione, la numero 20, dall'inizio dell'anno, solo nell'Asl Napoli 1, è stata l'associazione Nessuno, tocchi ippocrate. Non si fermano nemmeno davanti al drappello di polizia, il commento pubblicato dall'associazione in un post su Facebook. Anche in questo caso non era in ballo nessuna vita da salvare. La motivazione di tale gesto, sempre quella della premura, di essere visitati. Ma nel caso di un pronto soccorso oculistico non è più che altro una visita ambulatoriale. L'infermiere è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, l'imitrofo, facendosi rifertare. L'associazione auspica che l'aggressore venga identificato e denunciato dalla polizia. Sarebbero centinaia i casi nel Salernitano di pazienti deceduti per i quali risultano erogate prestazioni riabilitativi. Riflettori puntati sulla RSA, il direttore sanitario dell'Asl Salerno, Sergiani, chiarisce. Stiamo verificando con i nostri ispettori. Nel Salernitano cresce lo scandalo sui presunti casi di pazienti deceduti e per i quali risultano fatturate e pagate prestazioni riabilitative. Oltre la data della loro morte, sarebbero riconducibili alle false attestazioni di terapisti di un unico centro di riabilitazione. Massima attenzione sulle RSA. Le verifiche sono partite dal distretto sanitario di Nocera. Al lavoro il nucleo ispettivo dell'Asl. I controlli sarebbero stati estesi alle prestazioni degli ultimi dieci anni, come spiega il direttore sanitario dell'Asl Salerno. Sono stati evidenziati in una struttura che eroga prestazioni riabilitative della nostra azienda in seguito a dei controlli fatti dagli operatori distretti che hanno l'onere di dover procedere, alcune firme all'interno di programmi terapeutici individuali di soggetti che in alcuni giorni erano già deceduti. Da qui è partita tutta la varia indagine. Il direttore Sergiani assicura il massimo impegno per fare chiarezza sulla vicenda. Successivamente si è approfondito, non solo per la struttura, ma per tutte le strutture di pari qualifiche e pari erogazioni di servizi di tutta l'azienda. Ed è stata fatta poche settimane fa una riunione in sede centrale con la direzione generale e con tutti i due due distretti, dove si mette soprattutto una verifica amministrativa della documentazione acquisita negli anni precedenti dove eventualmente due ci sono le riformità saranno segnalate sia ai nostri servizi interni per l'eventuale recupero delle eventuali somme erodamenti erogate, oppure alle varie autorità di competenza. Ed ora parliamo dell'ospedale Landolfi di Solofra. Non c'è ancora una data certa per la riapertura. A breve si procederà con la riattivazione dei primi quattro ambulatori, ma il sindacato chiede nuove assunzioni per rafforzare la pianta organica. Sentiamo. Dare una data precisa? No. Perché io, soprattutto faccio il sindaco di Solofra, non sono il direttore generale dell'azienda ospedaliera. Non c'è ancora una data certa per la riapertura dell'ospedale Landolfi di Solofra, ma si procederà gradualmente, già dai prossimi giorni, con la riattivazione dei primi tre ambulatori. L'annuncio del manager dell'azienda ospedaliera del Moscati, Renato Pizzuti, confermato dal sindaco di Solofra, Nicola Moretti. Ortopedia, se non sbaglio, urologia e cardiologia. Pizzuti è stato chiaro, io ho molta fiducia nel direttore generale dell'azienda sanitaria, che entro il mese di maggio apriranno già due reparti. Parli di reparti, ecco, adesso parliamo di ambulatori. Maggio ha parlato di reparti, giugno, con il completamento della diagnostica, credo che l'ospedale può riaprire. Poi sarà la volta anche del punto di primo soccorso. Riaprirà anche il primo soccorso, ma logicamente sarà nel contesto della riapertura, dei reparti, delle diagnostiche, certamente il primo soccorso sarà riaperto e quindi sarà un servizio che darà al territorio. Ma per la CIS, la funzione pubblica, non si possono nascondere le difficoltà sotto il tappeto nuovo. Senza nuove assunzioni e quindi il rafforzamento della dotazione organica, le difficoltà saranno all'ordine del giorno, afferma il segretario generale Massimo Imparato. Tutelare l'ambiente dalle azioni scellerate dell'uomo e dagli interessi della criminalità è l'appello rilanciato dal palco del premio Tangredi che si è tenuto questa mattina a Benevento. Difendere l'ambiente dalle azioni scellerate dell'uomo e dagli interessi della criminalità è un appello unanime quello che arriva dal palco della quarta edizione del premio giornalistico Geppino Tangredi. Oggi al centro alla pace di Benevento la cerimonia di attribuzione del riconoscimento che ha premiato importanti personalità ma anche studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo avuto tantissimi concorrenti giovani, molti ragazzini della scuola elementare e questo ci ha fatto molto piacere perché hanno preso a cuore questo tema dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente della madre terra. Un premio in memoria di Geppino Tangredi ad opera della figlia Maria, anche sa giornalista. Sono 29 anni che è scomparso, nel 2016 ho dato il via a questo premio presentandolo e la prima edizione poi c'è stata nel 2017. Quindi siamo alla quarta, bloccati per la crisi pandemica e abbiamo ripreso. Tra i premiati anche il Prate Antica Morra, Don Luigi Merola e a rilanciare la necessità di rispettare l'ambiente, l'Arcivescovo di Benevento. Questa cura che deve partire dall'alto, cioè da leggi definite e chiare da parte dei governi, imporre, diciamo così, degli argini, ma è anche necessario coltivare un'educazione comune perché la cura della casa comune deve essere un fatto comune, un fatto che è proprio di tutti, per cui educare sin da piccoli è un investimento per il futuro. Ed ora parliamo delle sfide della medicina in campagna, traguardo di eccellenza per la clinica Villa Maria Mirabella Eclano in Irpinia, una struttura all'avanguardia che viaggia spedita verso la creazione di un polo oncologico. Impegno, passione, sacrifici, amore, cura meticolosa dell'ammanato inteso come membro di una grande famiglia, forte attaccamento al territorio, innumerevoli traguardi raggiunti, 30 anni di storia dall'inaugurazione della nuova sede di Villa Maria che si possono sintetizzare così. Una clinica all'avanguardia che oggi mira a diventare un polo oncologico delle aree interne. La passione è di accogliere i pazienti e di poter offrire quanto più possibile un conforto ai pazienti, anche per non staccarli dall'ambiente familiare. Il paziente quando ha necessità di terapie mediche deve sentirsi alla famiglia vicino. Il primo passo è stato quello di realizzare questa radioterapia con l'UPMC, l'Università di Pittsburgh. Da questo primo passo stiamo cercando di seguire questo cammino per arrivare appunto a fare un polo oncologico. È una lunga storia d'amore quella tra la famiglia Covotta e la casa di cura Villa Maria. Ed è anche lo spunto per far capire a molti che l'oncologia è cambiata. Da un'oncologia diciamo generalista in cui si faceva un po' a tutti la stessa cosa, siamo sempre più entrati nel particolare verso la precisione e verso la persona. Con questa presenza Villa Maria in un circuito internazionale che fa della qualità delle cure, della formazione e dell'attività di ricerca i suoi punti di forza. Era l'ultima notizia e il TG termina qui. Grazie di averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.